Napoli sul Benfica e poi partire da questa partita per i nostri commenti. La notte di Napoli e del Napoli, Napoli che torna in Europa dopo 14 anni, torna a respirare profumo d'Europa sperando di poter andare il più lontano possibile in questa Coppa UEFA che il Napoli ha già vinto nel 1989 a Stoccarna con Diego Armando Maradona. Attenzione a Reyes che prova la conclusione con il sinistro, Navarro in angolo. Eccolo Denis, Denis in area di rigore, Denis! Kim in calcio d'angolo, cosa ha fatto Denis? Ancora Lavezzi porta spasso il Benfica, Lavezzi carica il destro sul fondo. Di Maria Suazo, ancora Suazo. Prova al sinistro, facile per Navarro. Carlos Martins ancora in area e il vantaggio di Suazo. Suazo porta in vantaggio il Benfica al sedicesimo. Cerca Amsic, è buono il pallone per Amsic che ha spazio, prova al sinistro, c'è una respinta, arriva Vitale! Vitale! Uno a uno! Vitale! Giocava in C1 l'anno scorso, ha segnato il Benfica! Uno a uno! Lavezzi, va ancora a cross per Amsic! Amsic! Due a uno! Denis! Due a uno! Due a uno! E il tanque! Incredibile! Leo per Reyes, attenzione a Suazo. Suazo in area di rigore, Cannavaro deve chiudere, arriva anche Santa Croce! E il Napoli si salva, mamma mia! Pallo di Blasi, aia! Aia! Era diffidato, Blasi dovrà saltare il ritorno a Lisbona. Attenzione ad Amsic sul dischetto. Palla lì! Sulla linea! Denis! Sulla linea, salvato! Falcerà Gargano. Parte Gargano. In bocca a Kim. C'è Gargano invece. Pazienza. Ancora larga per Maggio. La palla è buona in mezzo. E pallone dentro! Maggio! Tre a uno! Euro Maggio! Euro Napoli! Che errore di Kim! Il cross è proprio per Luisao, la palla resta lì, Luisao! Non ci voleva questo gioco. Tre a due Luisao. L'avevo detto che questo giocatore è un giocatore importantissimo. Leo. Palla lento per Balboa. Balboa, esce Navarro. Poi il Napoli fa un po' di confusione. Maggio ci mette la punta e allontana. Gargano. dietro per Pazienza. Non ci prova Pazienza Kim. Napoli che batte comunque il Defica.